Musica Benvenuti al nostro TG Sport cari amici di Telemolise, buon santo Stefano a tutti, anzi ne approfitto per fare gli auguri a tutti quelli che si chiamano Stefano o Stefania, tra l'altro ce n'è qualcuno che compie anche gli anni oggi, quindi auguri doppi a queste persone, sia da parte mia sia da parte di tutta la redazione di Telemolise. Per il campionato di Serie D il Campobasso riprende gli allenamenti domani pomeriggio per preparare la gara dell'Epifania in casa della Re Canatese. Il mercato di dicembre ha portato tre nuovi innesti in casa Rosso Blu. La squadra sta per terminare le ferie natalizie, alle porte c'è un girone di ritorno che come noto potrebbe anche essere tutta un'altra storia rispetto a quello di andata. Ci sono squadre agguerrite in lotta per salvarsi, quest'ultima competizione per rimanere a galla risulta essere più aperta rispetto alla lotta per la promozione che sembra avere dei contorni più definiti con la San Benedettese in pole position per la Lega Pro. Il mese di gennaio scatta con due partite ravvicinate contro Re Canatese prima, Amiternina poi a Selvapiana. A seguire la visita nella Tana proprio di quella San Benedettese che rievoca al Campobasso una straordinaria vittoria risalente allo scorso campionato sotto la guida tecnica di Francesco Farina. Tornando alla più stretta attualità, Favo cercherà di amalgamare al meglio i nuovi arrivati alla sua corte. In totale sono stati tre, Rinaldi, Scimò e Gabrielloni, e di inserire maggiormente in prima squadra i validi elementi della Juniores, che hanno dimostrato di essere in possesso delle giuste qualità per giocarsi il posto con i giocatori della prima squadra. Tante aspettative si sono create e a buon diritto, intorno all'attaccante boianese Carmine Perrella, bomber della Juniores, è sempre più addentro le dinamiche del Campobasso primo. La sua crescita, ma anche quella di altri lupetti, e una sua permanenza più stabile in prima squadra potrà rappresentare senza dubbio un motivo di grande soddisfazione al momento di tirare le somme. Ai nostri microfoni il neoattaccante rosso-blu Alessandro Gabrielloni. È debuttato contro l'Isernia, praticamente arrivato da qualche giorno alla corte di Massimiliano Favo, che è una tua vecchia conoscenza. Per quanto riguarda il tuo debutto, che cosa ci dici? Guarda, certo, ho debuttato subito in una partita tosta, visto che era il derby, e all'inizio siamo andati sotto e sono entrato che la partita stavamo perdendo. Ho cercato di dare il mio contributo, anche se non era facile, visto le condizioni del terreno di gioco, e comunque in un ambiente non facile, visto che è stata una partita molto maschia. Però siamo riusciti a pareggiarla, è importante, visto che, come ho già detto, è un derby. L'importante, dopo il suo tempo, era non perdere e siamo riusciti a pareggiarla, fortunatamente. Sei entrato al posto di Aquino, sarai il giocatore che, diciamo, si contenderà il posto da titolare proprio con Aquino, e dunque caratteristiche da prima punta per te? Guarda, posso giocare sia da prima punta che da seconda, che da attaccante esterno. Deciderà il mister dove impiegarmi, io mi metto a disposizione della squadra e dell'allenatore, e decidere a lui se giocherò o no. Per me è indifferente. Ecco, giocatore come te, preso in corsa, va valutata molto la condizione fisica, la tua com'è? Io comunque venivo dal Martina, mi sono, diciamo, non ho giocato molto 90 minuti, comunque ho fatto delle partite, delle presenze, magari non sono ancora al 100%, questo lo ammetto. Però, fortunatamente c'è la sosta, lavorerò molto per avere la condizione, comunque la ripresa, avere la condizione al top e vedremo. L'ultima partita l'hai disputata praticamente nel mese di novembre, proprio con la squadra del Martina Franca, che è Lega Pro, non se la sta passando proprio bene. Come ti ho detto, è un mese che comunque non giocano noi 90 minuti nelle gambe e magari un po' si può sentire. Il Martina non è nelle migliori condizioni, sono ben ultimi, però comunque è un girone difficile, quello del sud, e spero, visto che sono i miei ex compagni, che si salvino. Però ormai ho la testa qui a Campobasso e cercherò di fare gol e di aiutare la squadra a arrivare più avanti in classifico. L'Isernia riprenderà gli allenamenti lunedì. Bianco Celesti sono soddisfatti dei 23 punti conquistati nella prima parte del campionato. Ora sono proiettati al girone di ritorno, che si aprirà con la gara contro il Matelica, tornando al derby contro il Campobasso. Abbiamo il commento di Sabatino. Fabiano Sabatino, risultato giusto quello dell'1-1 contro il Campobasso? Ma io penso che il risultato non è giusto. Penso che abbiamo disputato una grandissima partita. Alla fine il gollo loro è venuto da un episodio, forse un fallo che hanno fatto addirittura su di me. Non la vedo giusta. Abbiamo giocato molto meglio, quindi il risultato non concordo con te. Senti, al di là del risultato è stata una bella giornata di sport. Sicuramente hai mai visto tanta gente all'Ancellotta? Sicuramente, siamo fieri che il popolo di Sernino sia avvicinato di nuovo alla città e alla nostra squadra. Però questo è frutto del nostro lavoro che abbiamo fatto l'anno scorso e abbiamo proseguito quest'anno. Si parla tanto di spirito di gruppo tra voi, anche se ci sono squadre che magari hanno speso tantissimi soldi per fare un campionato di vertice, eccetera. Se la devono vedere comunque con voi che avete nel gruppo proprio la vostra forza. Io penso che, come dite voi, noi siamo una squadra operaia, lo stiamo dicendo dall'inizio del campionato e penso che in casa nostra sarà difficile venire a fare risultato per tutti. Anzi, penso che è difficile che qualcuno venga di nuovo a violare la nostra imbattibilità. Come passerai le tue feste? Ci dovremo allenare, abbiamo un programma, dobbiamo rispettare il prof. Si è visto in campo che stiamo bene fisicamente e dobbiamo proseguire su questa strada. Come ti aspetti il girone di ritorno? Sicuramente sarà più duro il girone d'andata, però lo vedremo con una prospettiva diversa perché fare 23 punti nel girone d'andata sono tanti e quindi possiamo gestire 23 punti con più serenità. Una buona posizione in classifica? Si pensa solo ed esclusivamente alla salvezza o a qualcosa in più? Sicuramente dobbiamo pensare alla salvezza, poi se viene qualcos'altro strada facendo, ben venga. Nuovo rinforzo per la difesa dell'Olimpia agnonese dopo l'arrivo di Francesco Campanella. Si è accasato al team Granata anche Gigi Castaldo, intanto Lascoli con pagine di Serie B agli occhi puntati sull'attaccante Iello. Calcio a 5 dopo due sconfitte consecutive. L'Isernia è tornata al successo, il commento sul giro di Boa affidato all'assistente tecnico Simone Crudele. Simone Crudele, assistente tecnico dell'Isernia Calcio 5, insomma una vittoria che ci voleva avere un po' d'ossigeno prima di questo Natale. Eh sì, passiamo finalmente delle belle feste. Il Natale arriva e noi siamo più contenti dopo questa vittoria. È stata una partita bella, intensa, forse un po' troppo nervosa e penso che la partita non abbia avuto storia. Ecco, è stato un risultato abbastanza importante visto che è stata affrontata con la giusta cattiveria, insomma il giusto approccio mentale visto che il Saviano comunque ha sempre venduto cara la pelle perdendo magari di pochi punti, invece voi siete riusciti a imporvi con un largo margine. Io penso che il campo abbia parlato e abbia evidenziato come l'Isernia abbia giocato meglio e sia stata più cinica sotto porta, anche se c'è da sottolineare che abbiamo concesso in fase realizzativa al Saviano veramente poco, veramente pochissimo. Dal canto nostro forse, vabbè meglio di così non poteva andare, diciamo siamo molto soddisfatti. Peccato per l'espulsione però siamo comunque contenti. Che girone di ritorno ti aspetti adesso? Io penso che dobbiamo riflettere partita per partita settimana dopo settimana, quindi vediamo dalla prossima col Campobasso al rientro dopo la pausa natalizia e poi vediamo partita per partita. Mountainbike domani a Campomarino è in programma la gara di MTB XC Eliminator, gara di eliminazione con partenza da un minimo di 3 a un massimo di 5 minuti. Lo start è in programma alle 8.30 da Piazza Vittorio Veneto durante lo svolgimento della corsa. Tra una batteria e l'altra si avrà la possibilità di visitare la mostra dei presepi del Borgo. Tempo di bilanci per la nuova palla a volo Campobasso che si lascia alle spalle un anno positivo, non senza sacrifici. Ne abbiamo parlato con Lucia De Soccio. Lucia De Soccio, la nuova a volo Campobasso si fa gli auguri di Natale al centro della città, qui a Piazzetta Palombo. Hai portato in piazza le tue ragazze e i tuoi ragazzi. Diciamo che è stato un modo alternativo, un po' più bizzarro quest'anno per dare gli auguri ai bambini e alle famiglie. Questo posto è talmente meraviglioso e al quale io sono legata particolarmente, non perché sia nata qui, perché sono nata in un posto diverso, però è bello, è suggestivo e poi queste botteghe sono veramente un incanto. Quindi noi che amiamo la molisanità, che siamo tutte ragazze, cioè le ragazze della nostra squadra sono tutte molisane, amiamo il nostro Molise, quindi quale occasione migliore per valorizzare questa Piazzetta Palombo, che è un vero incanto. Siamo alla fine di dicembre, quindi è tempo anche di bilanci. Qual è quello della nuova palla a volo? Tante soddisfazioni anche sul campo da parte delle tue ragazze? Sì, diciamo che per qualche verso potevamo anche fare meglio, per quanto riguarda la Serie D, almeno fino ad oggi. Abbiamo avuto una serie di problemi, la squadra è completamente rinnovata, ogni anno purtroppo perdiamo tantissime ragazze per l'università, questa fuga ci distrugge letteralmente, per cui ogni anno ci troviamo a dover ricominciare da capo e a buttare sempre in gambo ragazze piccolissime, e quindi chiaramente questo poi si paga. Però ciò nonostante stiamo cominciando a carburare, stiamo mettendo un po' di carburante nei muscoli per esplodere poi al girone di ritorno e sicuramente avverrà questo. Per quanto riguarda invece i camionati giovanili, fino ad ora non abbiamo avuto nessun problema, ma abbiamo macinato i punti in Under 18, ci sarà la partita scontro diretto dopo queste festività. Per il momento siamo abbastanza tranquilli, anche se l'Under 18 non era il nostro campionato, ma bensì l'Under 16 e l'Under 14. Però se dovesse arrivare anche un successo nell'Under 18 vuol dire che siamo veramente bravi. Tutto parte però da quando i bambini sono piccoli, quindi in questo caso dal mini volley c'è un grande lavoro, una grande organizzazione da parte della nuova pallavolo Campobasso alle spalle. Sì, in effetti noi puntiamo molto sul settore giovanile, sull'attività di base, alla quale crediamo molto, ma soprattutto non perché i bambini debbano fare necessariamente pallavolo in maniera obbligata, ma perché l'attività motoria di base che facciamo noi, con un protocollo di lavoro sperimentato, fa sì che i bambini all'età di 9-10 anni possano scegliere tranquillamente la disciplina alla quale avvicinarsi, scegliendo con molta serenità, senza forzatura, quindi evitando poi il cosiddetto abbandono che purtroppo oggi avviene, in maniera tale da avere una completezza nelle abilità motorie che poi possa farli avvicinare a qualsiasi disciplina. Questo è un discorso che potrebbe anche essere, voglio dire, per quello che mi riguarda contro la nostra attività, perché sto facendo un discorso polivalente, però io ci credo in questo e penso che le abilità motorie, le capacità coordinative si sviluppano dai 6 agli 11 anni. Se si lavora bene sulla base, alla fine il bambino può esprimere il suo gioco in qualsiasi disciplina sportiva. Poi, se sceglie la palla a volo, siamo tutti molto più felici. Uno, due, tre, nuova palla a volo, tre! Nuoto sono arrivati i buoni riscontri per l'H2 O Sport Campo Passon alla seconda prova del Grand Prix Sprint, riservata alla categoria esordienti. Tante le medaglie conquistate dai giovani atleti della società che hanno chiuso le loro gare sul podio. La finale del Grand Prix, alla quale avranno diritto i primi atleti delle due prove, è in programma a Venafro il 24 gennaio. Ginnastica artistica è partito tre mesi fa il progetto della Gym Center Anima e Corpo di Montecilfone. Tanti bambini che hanno aderito e che hanno già conquistato buoni risultati nella loro prima gara. Siamo con dei piccoli atleti del Gym Center Anima e Corpo di Montecilfone. Vediamo qui Luca. Ti piace l'atletica? Sì. Il calcio non ti piaceva? No. Meglio. Ok, passiamo a Martina. Tu come ti sei avvicinata a questo sport? Ti piace? Sì. Com'è deciso di avvicinarti appunto a questo sport? A me piace fare le ruote, le verticali e le parallele. Sofia, come avete vinto questi trofei a Napoli? Sì. Quali attrezzi usi? La trave, trambolino, corpo libero e parallele. Quale ti piace di più tra questi? Parallele. Siamo con il gruppo degli esordienti del Gym Center Anima e Corpo di Montecilfone. Come avete vinto questo trofeo che vedo tra le vostre mani? Ci siamo allenati tanto e poi siamo andati in gara a Napoli e abbiamo vinto. Che cosa avete provato? Io ho l'emozione. Ti piace tanto la ginnastica artistica? Sì. Che cosa ti piace della ginnastica artistica? Tutto. Un giorno speri di diventare una grande atleta? Sì. E tu che cosa consiglieresti a tutti i bambini che vogliono provare la ginnastica artistica? Di provare tutto, tutti gli attrezzi perché è uno sport fondamentale. Podismo domani a San Martino in Pensilis è in programma la corsa di Babbo Natale. Alle 15 lo start alla gara non competitiva aperta a tutti ed organizzata dalla Runners Termoli con il patrocinio del Comune. Torniamo al calcio. Il 2015 si chiude con un po' di amarezza per il Petacciato. Gli atriatici, reduci dal pari contro il Baranello, chiudono la classifica di promozione con 11 punti. Ne abbiamo parlato con l'allenatore. Mister Campofredano deluso da questo 2-2. Potevate ottenere sicuramente qualcosina di più. Beh, deluso. Considerate comunque che il Baranello è una signora squadra. Deluso perché erano andati sul 2-0. Abbiamo avuto la palla addirittura per chiudere il match. con casa languida, quindi è andato su 3-0. Da lì, dal possibile 3-0, siamo scivolati sulla classica buccia di banana. C'è stato un contatto in aria veniale. I miei dicono che il giocatore avversario si è lasciato andare. Comunque, calcio di rigore, hanno accorciato le distanze. Noi ci siamo disuniti un po'. Un bel po' nel secondo tema. Ci siamo intimoriti. Abbiamo avuto paura di portare a casa il risultato. Loro sono stati bravi e alla fine abbiamo pagato da solo noi e forse non so, potrei dire che il pareggio alla fine è giusto. Ecco, per il secondo tempo fatto dal Baranello e non fatto da noi. Voi avete giocato, secondo me, un primo tempo tatticamente perfetto. Perfetto, siete stati accorti in campo. Avete sfruttato il momento loro quando sono un po' calati. L'avete sfruttato al massimo. Poi forse dovete evitare quel gol nel finale del primo tempo. Sì, sì. E' giusta la tua disanima, è giustissima. Loro si sono galvanizzati con il gol del 2-1 e noi ci siamo lasciati andare. Non è giustificata la cosa però è sempre da considerare, c'è sempre da pensare che loro avevano un capitano di Chiro che è un signor giocatore e quando non sai cosa fare dai la palla a lui che sa come gestirla ha detto i tempi, eccetera, eccetera. Noi siamo ancora alla ricerca tra virgolette alla ricerca di qualcuno che si fa carico della squadra. In parte lo fa il capitano, Vito, Casalangueta, in parte lo fa Pangia, Berchicci, però non hanno il tipo di gioco, insomma non sanno dettare i tempi di gioco come fa un giocatore come Di Chiro. Nonostante le tante assenze il Campo di Pietra ha conquistato tre punti a spinete i rosso-blu condividono il secondo posto con la Frentania ai nostri microfoni Viglione. Siamo con Lorenzo Viglione giocatore e allenatore del Campo di Pietra era importante chiudere l'anno e il gioco che viene andata con una vittoria ci siete riusciti dopo una partita equilibrata decisa possiamo dire da due episodi. Ma insomma io sinceramente non sono d'accordo sono d'accordo sul fatto che era importantissima la vittoria a prescindere dal passare un buon Natale ma comunque non vincevamo da un po' tanti buoni risultati pareggi c'è stato il turno di riposo quindi non vincevamo da un po' e io credo che veramente noi non abbiamo subito un tiro in porta quindi abbiamo avuto diverse occasioni quindi abbiamo fatto la partita perfetta che abbiamo preparato bene in settimana nonostante comunque avevamo diverse assenze tra squalificati e infortunati i cefaratti i tripodi lo stesso Minotti di corpo Bredicio un sacco di un sacco di infortuni e squalifiche però comunque la squadra con tanta umiltà è scesa in campo e abbiamo raggiunto l'obiettivo e adesso cosa ci dobbiamo aspettare in questo 2016 il giro di ritorno dal campo di pietra sì no no vabbè ma comunque a prescindere da tutto ripeto la classifica adesso veramente conta poco sono convinto che comunque da gennaio ad aprile maggio ci sarà un altro campo di pietra sotto tutti i punti di vista in positivo e quindi niente la classifica la vedremo a marzo-aprile andrà in onda oggi la differita di Castelmauro Roseto la gara verrà trasmessa alle 17 su Telemolise 2 canale 12 alle 16.30 e alle 19 su Telemolise Sport canale 112 Biliardino in programma domani a Petrella Tifernina la dodicesima tappa del torneo itinerante di calcio Valilla il bar Brickson ospiterà a partire dalle ore 17 l'evento organizzato dalla Trivisonno Biliardi e Giochi bene è tutto per questa edizione del nostro TG Sport buon pomeriggio buon pomeriggio